Caritas è disponibile insieme alla Chiesa Ambrosiana a dare una risposta positiva a tutti gli appelli che comunque arrivano sia dalle prefetture sia anche dal mondo religioso di un'accoglienza organizzata a questo tipo di arrivi e di flussi. Abbiamo rilanciato un po' l'appello a tutte le parrocchie a mettere a disposizione appartamenti piuttosto che strutture per fare questa ospitalità diffusa quindi piccoli nuclei per lunghi tempi diffusi appunto un po' in tutta la diocesi però adesso arriva il periodo estivo e anche il cardinale ha detto vabbè appunto se ci sono delle parrocchie che hanno oratori piuttosto che palestre, strutture, aule di oratorio che possono essere messe a disposizione vediamo di organizzare questa accoglienza appunto in maniera ordinata, in maniera coordinata con le prefetture e quindi la carità sambrosiana c'è a mettersi a fianco a queste parrocchie che avessero queste strutture per poter rispondere in maniera dignitosa ancorché temporanea perché parliamo dei mesi estivi per queste soluzioni che possano rispondere a quello che ci aspettiamo un flusso importante di numeri e delle richieste veramente così importanti a cui rispondere insomma. Appunto a proposito di numeri, quali le cifre dell'impegno già sul campo di Carità Sambrosiana? Beh ad oggi appunto in questo anno che è seguito agli appelli sia del Cardinale Scola che del Papa a settembre noi abbiamo attivato 142 strutture tra parrocchie, strutture della diocesi, strutture di ordini religiosi e strutture di proprietà diciamo così o di privati o di cooperative vicine alla Caritas. Queste 142 strutture accolgono 1507 profughi. Questo censimento, quindi questo appello che abbiamo rilanciato e stiamo facendo in questi giorni le telefonate in tutte le parrocchie stanno facendo emergere nuove disponibilità quindi noi ci aspettiamo per la fine di giugno di aver chiuso il quadro di quello che si è attivato o è attivabile oppure quello che è impossibile da attivare perché delle parrocchie dicono onestamente noi non abbiamo degli spazi e continuerà il lavoro di accompagnamento all'apertura di questi spazi ma anche l'accompagnamento delle comunità che devono essere aiutate a prendere queste presenze nel modo giusto sia in termini di comprensione del fenomeno sia in termini di come li si deve accogliere in maniera dignitosa sia in termini di quale mentalità nuova deve emergere anche da questo incontro.